Allora amici, rieccoci, sono tornato, praticamente scusatemi se ho interrotto così bruscamente la puntata di prima, cioè di ieri, perché ne esce una al giorno, ma stavo lavorando, cioè dovevo attaccare il lavoro, adesso mi sono loggato, ho fatto tutto quanto e possiamo continuare. Dovevamo conquistare la Cina, ho fatto mandare tutti velocemente, cioè ho detto di andare veloce ai generadi, e ora dobbiamo attendere, chi è che non ci vuole, no Portogallo ma che cazzo fai? Ah vabbè, ha ragione, non ci serve neanche tutta quella roba, minchia l'acciaio ci manca, allora facciamo l'acciaio, tac, 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 a posto, qua perché non ho? Cosa che ci serve? Non lo so, i smith Ah ok, devo, cioè serviva un focus per poterlo fare, niente No ragazzi, dobbiamo andare noi a Kanoi Dobbiamo andare noi a Kanoi Bastardi ci hanno preso Kanoi Vabbè Noi ci prendiamo Saigon, ce lo siamo già presi, a posto Loro intanto hanno finito lì sotto In Malesia Guardate le ferrovie Ok, qua nel nord come va? Abbastanza bene, sembrerebbe Qua togliamo queste divisioni Fermo nel nulla Usate anche voi le ferrovie, abbiamo perso due divisioni Abbiamo perso due divisioni qua Da qualche parte Dai, finite, finite qua sotto Tanto non hanno neanche porti Dai, vai Non ti preoccupare Visto? Sei fortissimo Non ti preoccupare Ok, a posto Ora, mando anche voi qua sopra Ferrovie, per favore Le conversions Sì, 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 sì Ma l'hai capito? Che non voglio le tue truppe Anzi, dammi le truppe Dammi tutte Minchia, 19 Dove cazzo hai tutte le truppe? Scusami Ah, ok Io ne ho richiesti 19 Però non ne ha 19 Ok Mettiamo un bel generale Un bel generale Tu mi piaci No, mettiamo quello sotto Mettiamo Kelsenrig A 3, 4, 4, 4 È molto più buono Buttiamoli fuori Dalla nostra terra Tu stai fermo Mantieni il territorio Anche tu vai qua Dai Non nulla Non nulla Non nulla Ok Ok Bella lì Che palle A quel fronte Non ci serve Quindi togliti Ok Andiamo a avanzare di qua Così ci togliamo Quella zona da controllare Signal Company Potenziamo ancora Qua stiamo andando Stiamo strandando Allora Voi andate di qua E Anche loro stanno andando Buono 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 Piano piano Buono Buono Ok 45% Molto Molto bene Anche noi stiamo andando Fate un bell'ordine A Chinese Empire Riusciamo a fare questo Minchia se riesci a fare quello Perché non l'hai fatto prima Allora ne ho 6 50 Ma si ma chi se ne frega Ma facciamo l'altro un po' Qui ne fai meglio Ma voi non avete capito Che dovete andare Tutti qua dentro E andate Allora 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 ok qua quanto ci manca 15 cosa ti manca scusami manpower ti manca beh c'è ragione pure tu prendiamo questo e andiamo a Xi'an eh no non riusciamo all'intento deployiamo tutti gli altri togliamo tutti gli ordini ok 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 King Dao Carrier facciamo anche il destroyer potenziamo pure quello padre il defonso scusate ma perché non state andando al fine li stiamo distruggendo ah pensavo fosse capitolato ok qua abbiamo finito quindi possiamo andare veloci con un ordine ben definito come siamo 53 buono sono in vantaggio il mio obiettivo è dare almeno un porto al Chinese Empire almeno un porto perché tutte le nazioni la maggior parte delle nazioni povere al mondo non hanno porti ok facciamo anche il piercing il packwagen ferrovie mi raccomando e anche voi ferrovie bene mmm da te è ugualt Yeah l'abbiamo preso noi Però lì ci hanno preso loro Ok Ok ci siamo congiunti con il nostro Con il nostro puppet Con la nostra pappetta E dai muovetevi a prenderla Per favore Ok Togliamo tutti gli ordini del cazzo Ok Usate i treni Come siamo 57 Buono Tanto nella nostra alleanza Abbiamo praticamente L'assoluta maggioranza È contro gli altri cinesi Che dobbiamo contenderci la Cina Però non è un problema Se abbiamo la maggioranza Non ci fanno paura Ok Confirma in exit German Reich ha preso 9 stati Chinese Empire 36 stati Molto contento Molto contento Molto contento Ora tu Che ne vai Ora Qua Minchia Che palle Facciamo delle ferrovie Proprio da qua Si passano D'acqua Acqua Al massimo Allora Spero che con queste ferrovie Non ci diano più problemi L'attrizione L'attrito Qua siamo a posto Qua siamo a posto Qua anche Ma si potenziamo le nostre navi Parlando di navi Devo sostituire questi Eh Ah togliamo lui E li mettiamola al massimo Ok Abbiamo sottomarini Potenziatissimi Quindi Qua no Qua no Allora è meglio lo snorkel O radar Sub visibility 20 E che forse Non lo so E no Non mi serve niente Come Come sottomarino Quel radar 21.2 Kilometri Ok Intanto salviamolo Historical submarines Questo è il 4 Era il massimo Il cruiser submarine 19.9 Range 6000 Range 6000 Ok Ok Sei molto buono E molto meglio Ah voi ne fate uno Uno E poi passiamo Al potente Al grande All'unico E inimitabile Da marine 4 Non 3 4 volevo fare Ok E i sottomarini Siamo a posto Destroyer Abbiamo fatto il 3 Adesso si sta ricercando Il 4 Aspettiamo Tanto chi se ne frega Qua abbiamo portato Le ferrovie Sì Ah perché Te hai problemi E certo Qua non c'è il supply hub Facciamolo Costruiamolo noi Ok Fatto anche il pack wagon Cosa ci manca Ok Siamo a posto Con il Con il Tungsteno Ci manca ferro Lo possiamo chiedere Al Chinese Empire Però Ma facciamolo Anche noi In casa Facciamo tutto In casa Miglioriamo Quello che può essere Migliorato Qua Modern tank Siamo in vantaggio Modern Artillery Siamo in vantaggio In positivo Volevo dire Porto equipment Anche Mechanized Anche Artillery Anche Ok Buono Buono Qua Quanto manca Per il Destroyer 4 Grazie Facciamo Mortar E ora Possiamo potenziare Anche Destroyer Meglio Radar Allora Anti-air 10 Light battery 10 Heavy battery 10 Sonar Subdetection No Meglio Radar Ti dà Un Subdetection Anche Maggiore Historical Destroyers Depth Charge Ok Ma sì Ma teniamolo Così Ne faccio Ne faccio un sacco Sarò pieno Di Destroyer Ma facciamo Altri Ok Poi appena Ho il carrier Potente Farò anche Un carrier Ma non penso Mi serva Visto che L'unica Altra potenza Che andrò Ad attaccare È l'America Ok Voi Anzi Te ne do Altri Due Voi Andate Qua in America Attacchete Ne prendiamo Un altro Andate anche Voi in America E Andate Piano E allenatevi Finché potete Voi anche Allenatevi Ma giusto Per sicurezza A posto Riportiamo Tutti gli aerei Qua in America E poi li distribuiamo Per benino Ok Modern Large Airframe Fatto Lo Small Non lo faccio Non Non mi interessa Neanche Pensiamo Sempre Qua Questo Allora Nevelo Invece Uncapacity Quindi 50 E qua 100 Ok Quasi Quasi Sono tentato Di fare Una giocata Dove siete No No Non voi Voi Facciamo una Mega Invasione Navale Allora Single Single Company 4 Ma sì Ma ricerchiamo Anche questo Ormai Sono arrivato A quel punto Dove Qualsiasi cosa Io Ricerchi Non cambia Assolutamente Nulla Ok 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 Voi 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 Anche Andate Da Qua O facciamo Da Qua Magari Da Qua Così Prendiamo Anche L'altro Porto Ok No Ma è meglio Se lo facciamo Partire Da Ok Intanto Li faccio Spostare E poi Quando Quando Avrò I Harbour Farò Con Con Gli Harbour Qua Andati Buono Potenziamo Che Torpido Fatta Anche La batteria C'è I Colpi Potenziamo Che la Batteria Vi state Muovendo Voi No Allora Andate Andate Qua Loro Intanto Sono Arrivati Buono Minchia 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 Il Porto Dobbiamo Potenziare I porti Di fatto Ok Uh Anche Qui Anche Questo Intanto Qua Da Quante Oria Dovrebbero Arrivare Le nostre Merci Il porto Ah ok È già Al massimo Buono Ma dove Cazzo Vai Dove Straminchia Vai Perché Perché Stai Andando Nell'Egeo Nel Mediterraneo Oh Ti ho detto Di andare Qua E Allenati Io Adesso Impazzisco Adesso Adesso Impazzisco Perché Non mi vuole Ascoltare Oh Ok Allenati Ok Sono Arrivati Anche Gli Altri Ok Medium Fatto Questo Potremmo Farlo Però Preferisco Fare Queste Ok Qua Noi Non abbiamo Problemi Di Infrastruttura Mentre Gli Americani Si Ah ok Ecco Dove Erano Airplane Catapult Fatto Ok Loro Sono Già Qua Togliamo Questo Invasione Con L'Arbor Ok E Anche Voi No Prima Facciamoli Arrivare Tutti Che Poi Mi fanno Danni Cancelliamo L'Ordine Con L'Arbor Andate Da lì Però Mandiamo Su Tutta La Costa A voi Manca poco Anche a voi Anche a voi Voi siete a posto Vombo Ah ti manca un carro No non le voglio le tue truppe Basta Magnetic Detonator Magnetic Il Chinese Empire Tu mi aiuterai contro il Giappone E contro le Filippine Sì Che ci vogliono bene però Le Filippine Ah no Noi vogliamo bene Le Filippine Va bene Potenziamo i Torpedo al 4 Voi intanto partite A voi non ho dato l'Ordine No togliamolo Allora Prendo voi E vi assegno Ah no Siete già assegnati Allora Prendo te E ti do questo Ordine d'attacco Bravissimo E voi andate dopo La Cina Non ci dà più materie prime È un problema? No Però ci dà truppe Non me ne faccio niente Delle tue truppe Smettila Smettila ancora Ok Allora Devo ricercare Is at war No come faccio A dichiarare guerra Agli United States Non posso Ma come dire Che non posso Niente Giustifichiamolo noi Conquer New England Yeah Quanto ci mettiamo? 125 giorni Niente Ci vediamo Nella prossima puntata E attaccheremo l'America Bella